Ci troviamo nel canto 31 dell'Inferno, un canto considerato di passaggio e in effetti siamo tra l'ottavo cerchio e il nono. C'è un abissale passaggio da superare e un gigantesco pozzo nel quale abitano queste creature primordiali e mitiche che sono i giganti. I critici tante volte annoverano questo canto come alcuni altri della commedia tra i meno ispirati del poeta. Per l'amor del cielo qualche volta Omero dorme si dice e forse anche Dante dorme. Eppure i critici, mi ci posso mettere anch'io questa sera tra di loro, dovrebbero ricordarsi la bella riflessione del grande Pushkin, quando diceva che nel migliore dei casi un critico è un postino che imbuca la lettera. Ma la lettera l'ha scritta un altro e in questo caso l'altro chiamassi Dante. Insomma vale la pena che noi questo ce lo ramemoriamo. Allora siamo nei versi 49-57. In questo canto Dante incontrerà appunto queste ciclopiche colossali in mani figure del mito classico e del mito biblico, che siano Nembrot, Anteo, Fialte ed altri giganti nominati. E ad un certo punto così scrive Natura certo quando lasciò l'arte di si fatti animali assai febene per torre tali esecutori a Marte. E se ella d'elefanti e di balene non si pente chi guarda sottilmente più giusta e più discreta la ne tene. Che dove l'argomento della mente s'aggiugne al malvolere e alla possa nessun riparo vi può far la gente. Allora queste terzine, queste tre terzine veramente straordinarie hanno come protagonista la natura. E Dante quindi dice la natura certo quando lasciò l'arte di fare nascere si fatti animali, esseri viventi, sta alludendo ai giganti, fece assai bene per togliere tali esecutori, insomma come dire tali forze a Marte, visto che questi giganti sono da tutti i punti di vista marziali. E se la natura non si pente di elefanti e di balene, di creare, di continuare a creare e far nascere elefanti e balene, la natura è pur sempre un participio futuro. Quindi questa produttrice continua, questa creatrice continua, chi guarda sottilmente più giusta e più discreta la può ritenere. Più giusta e più capace di discrezio, di discernimento, perché dove l'argomento della mente, il mezzo della mente, si accoppia al malvolere e alla potenza non può più esserci nessun riparo per la gente. E quindi il nostro Dante, insomma, in queste tre terzine fa un elogio discreto e splendido, direi, della natura. Natura appunto che continua a produrre animali giganteschi come gli elefanti e come le balene e invece ha cessato con una sua misteriosa intelligenza evolutiva di far nascere questi giganti. Perché quando ci sono creature gigantesche che però sono dotate, oltre che di possa, di potenza, come può avere un elefante e una balena, sono anche dotate di un mezzo della mente e di un malvolere, ecco che diventano in qualche modo incontenibili per la gente, per gli uomini in questo caso. Allora, le riflessioni che potremmo fare su queste tre mirabili terzine alla faccia del dormire di Dante in questo canto sono molteplici. Intanto, naturalmente, Dante chiama in causa natura. Natura è immediatamente personificata, è la comune madre, come dice in Purgatorio, pensando alla terra. È una dea, è viva, è ancora ben viva l'idea dell'anima mundi, dell'anima del mondo che la percorre. È quasi una persona questa grande natura. È un vestigio del mistero della Trinità, potremmo dirlo in tante cose. Naturalmente non è l'ambiente. Per noi la natura è diventata l'ambiente, cioè al massimo è la cornice l'ambiente. L'ambiente, come fai a personificare l'ambiente? Quando dici natura hai davanti questa gigantesca creatura, come la penserà poi Leopardi, anche, che pure è molto distante sotto alcuni punti di vista da Dante, però la personifica è questa figura femminile immensa. È invece ambiente. Già al solito le parole uccidono. Per cui la natura, che è naturalmente un magnifico latinismo, appunto, da nascor, un participio futuro, naturus natura naturum, diventa ambiente che pure è un latinismo, per l'amor del cielo. Però capite bene come abbiamo ridotto una, come dire, un qualcosa di vivente già a una formula. Per cui questo è il primo aspetto. Naturalmente questa straordinaria entità personificata ha una sua misteriosa intelligenza nella quale rifulge probabilmente un'intelligenza più grande. Sono celebrati, in questo caso, gli animali. È curioso che venga fatto nel regno infernale, dove in genere la natura, come ho detto anche altre volte, è assente almeno nella suo splendore terreno. È una natura stravolta, è un'aura nera, è un'aura morta, è una cavità artificiale, quella degli inferi. Ci sono fiumi di sangue, di ghiaccio, ci sono paludi, ci sono fiumi infernali, ci sono lacrime che vengono dal veglio di Creta. Ecco, quindi, nello squarcio infernale il nostro Dante inserisce questo elogio dell'intelligenza della natura magnifico, che poi sarà celebrata fra pochi canti a cominciare da Purgatorio 1. Sappiamo che il Purgatorio è il regno della riscoperta della natura. È molto interessante anche l'aspetto dei giganti. I giganti naturalmente sono creature del mito su cui varrebbe la pena di fare una riflessione molto più articolata di quella che io voglio fare adesso. Io adesso uso la metafora, il simbolo dei giganti, per dire anche come sia curioso che il nostro Dante abbia pensato che esseri così mostruosi, cioè così troppo grandi, Dante descrive la smisuratezza inconcepibile per l'essere umano di queste creature, e queste creature sono ancora molto piccole rispetto poi al gigante dei giganti che Dante incontrerà nel 34esimo canto, cioè Lucifero in persona. Però sono troppo grandi. Ecco, ci ricordassimo questa saggezza della natura di Dante, ciò che è troppo grande è pericoloso. E allora potremmo fare questa attualizzazione, magari un po' sorprendente, tutti questi grandi giganti transnazionali, tutti questi grandi giganti di centri commerciali, tutti questi straordinariamente brutte, gigantesche architetture, come potremmo rimpiangere Chartres, come potremmo rimpiangere il Romanico, e mandare veramente all'inferno, tranquillamente, nel pozzo dei giganti, questo gigantismo in più economicistico che diventa pericolosissimo, perché questi giganti transnazionali, questi giganti di potere economico, uniscono alla possa, alla potenza della loro grandezza, una loro mente inquietante e il malvolere. E quindi questi giganti diventano pericolosissimi per la gente. Apriamo gli occhi e impariamo a riamare le proporzioni della natura, che ha sì cose gigantesche, che ha cose microscopiche, ma che ha una sua misteriosa saggezza. Direi che uno degli inviti di Dante è sempre quello, che noi ci svegliamo e diventiamo desti, critici e amanti.